ad illuminare la seconda edizione del trofeo prati stabili di marmirolo in provincia di mantova splendidamente allestito dagli uomini dell'unione ciclistica ceresarese del presidente simone pezzini sono state ben due maglie di campione del mondo vale a dire quelle di alessio delle vedove di andrea raccagni noviero campioni del mondo su pista nell'inseguimento a squadra all'interno del velodromo di tel aviv davvero un grande onore questo per la manifestazione mantovana che quest'anno è stata inserita all'interno del calendario nazionale che vedeva al via anche atleti provenienti dall'estero una manifestazione che ha visto in gara ben 164 juniores quella a cui ha dato il via il primo cittadino di marmirolo 134 i chilometri da compiere attraverso i sei comuni dei prati stabili vale a dire marmirolo roverbella volta mantovana cavriago goito porto mantovano questi sei comuni che hanno fatto squadra e che hanno aiutato l'organizzazione nell'allestire questa splendida manifestazione che si svolge per tutta la prima parte in linea per poi entrare sul circuito conclusivo di marmirolo e andare a decidere decretare il vincitore lo scorso anno ad aggiudicarsi la prima edizione era stato lorenzo aniballi l'atleta romagnolo della sidermec fratelli vitali presente anche quest'anno in gruppo per andare a caccia del prestigioso bis con le nostre immagini siamo proprio nella parte iniziale di corsa quella che vi avevamo annunciato si dipana in un tratto in linea con la situazione che vede sì numerosi scatti in testa il gruppo ma un plotone proseguire sostanzialmente compatto per i primi 40 chilometri di corsa tanti gli scatti tanti i tentativi degli uomini che provano ad andare in fuga ma la media tenuta dal gruppo è sempre molto elevata il percorso piuttosto mosso non consente a chi tenta la fortuna di guadagnare terreno spettacolare questo passaggio nel borgo storico con il gruppo che sfila molto allungato ma sostanzialmente compatto a precederlo vera la maglia della work service speedy bike di andrea raccagni noviero l'atleta ligure abbiamo detto già campione del mondo su pista nell'inseguimento a squadre oltre che campione europeo nella stessa specialità che è riuscito ad evadere dal plotone e a tentare un'azione solitaria davvero spettacolare l'atleta diretto da matteo berti e fabio camerin infatti nel volgere di alcuni chilometri riuscito a guadagnare un vantaggio molto interessante che raggiungerà un tetto massimo di tre minuti sul gruppo un plotone che alle spalle di andrea raccagni noviero procede sostanzialmente a scatti e quindi non riesce ad organizzare un inseguimento tanti i traguardi volanti disseminati dall'organizzazione lungo il percorso e questo è quello di goito che va proprio ad andrea raccagni noviero splendida anche la villa situata alle porte di goito con il gruppo che insegue a tre minuti dal battistrada vedete ancora un plotone molto folto quello che viaggia sempre compatto e che va all'inseguimento del fuggitivo un trofeo prati stabili che vuole andare a mettere in luce proprio la caratteristica di questo territorio unendo quello che è il tessuto imprenditoriale produttivo della mantovano che rientra sotto il marchio della grana padano infatti sono diverse le latterie che sostengono questa manifestazione che hanno reso possibile anche quest'anno allestire una organizzazione davvero spettacolare intanto con le nostre immagini siamo entrati all'interno del circuito di soave di porto mantovano con la situazione che rimane invariata sempre andrea raccagni noviero al comando della corsa mentre il plotone al suo inseguimento che rimane compatto e dove diverse formazioni intanto fanno capolino in testa per andare a guidare l'inseguimento è il caso della bs carrera ma abbiamo visto anche la usonia pescantina sino a quando a prendere in mano le redini dell'inseguimento sono i portacolori della sc padovani la formazione bianco verde che affonda le proprie radici nel ciclismo eroico del dopoguerra e che ha ottenuto tanti successi su pista e su strada e che negli ultimi anni è tornata ad allestire una formazione competitiva anche nella categoria juniors e sono proprio i portacolori dell'sc padovani che vanno a guidare a suonare la carica in testa al gruppo per cercare di riportarsi sulle ruote di andrea raccagni noviero ma quando al traguardo mancano ancora una trentina di chilometri il vantaggio della battistrada non accenna a diminuire ancora due minuti e trenta per il ragazzo della work service speedy bike che mulina il lungo rapporto lui che è una passista doc e tenta a questo punto di realizzare una grande impresa nella seconda edizione del trofeo prati stabili se la prima edizione si era decisa allo sprint quest'anno è andrea raccagni noviero che prova a far saltare il banco quando avete visto il cartello dei cinque giri al termine e siamo entrati proprio sull'anello finale conclusivo di marmirolo ancora azione solitaria per andrea raccagni noviero sempre le maglie della padovania ad inseguire ora da marforte agli uomini in casacca bianco verde è arrivata anche la usonia pescantina la formazione scaligera altro team storico della panorama giovanile veneto che è lì per tentare di ricucire lo strappo arriveranno anche le maglie dell'aspiratorio telli e quelle della borgomolino vigna fiorita e queste quattro formazioni riusciranno finalmente a fiaccare la resistenza della battistrada infatti andrea raccagni noviero prosegue della sua andatura ma ormai è il gruppo che ha decisamente accelerato e che si è riportato a meno di un minuto dal fuggitivo quando mancano ancora quattro tornate da compiere generosissima spettacolare e merita tutti gli applausi della pubblico l'azione di andrea raccagni noviero davvero coraggioso ad andarsene nella prima parte di gara in perfetta solitudine ma vedete che alle sue spalle si sono già organizzati i treni delle ruote veloci ormai si viaggia sul filo dei 60 chilometri orari in testa al gruppo mentre per raccagni noviero alla cartello dei tre giri al termine il vantaggio ormai è ridotto al lumicino appena 20 secondi separano il fuggitivo dagli inseguitori e quindi di lì a poco si concretizza il ricongiungimento in testa alla corsa il pubblico intanto attende l'epilogo allo sprint non succederà più nulla infatti a blindare la situazione sono proprio i compagni di squadra dei velocisti presenti in gruppo e ci si appresta quindi a vivere un altro sprint davvero emozionante sulla rettifilo d'arrivo di marmirolo dove a posare per i fotografi intanto ci sono i sindaci e gli sponsor del trofeo prati stabili lunghissima la volata impostata dal gruppo a ranghi compatti ma quando siamo i 200 metri ad uscire in testa davanti a tutti e la maglia verde nero della borgomolino vigna fiorita con alessio delle vedove che va così a siglare il suo ottavo successo stagionale seconda piazza per thomas capra della sali stefan macro quindi terza per mirco bozzola dell'aspiratori hotelli seguono riccardo barbuto e andrea cocca anche loro dell'aspiratori hotelli quindi alberto cavallaro della work service speedy bike giovanni cuccarolo della borgomolino vigna fiorita daniele rabensteiner della usonia pescantina marco oliosi della bs carrera e alessandro borgo della work service speedy bike alessio delle vedove un altro sprint vincente il trofeo dei prati stabili è tuo un finale davvero difficile e da interpretare si è stata una gara lunga insomma un circuito lungo che è caratterizzato da una fuga iniziale di raccagni una bella fuga si è partito diciamo a pronti via e quindi la gara è stata non dico controllata però a un certo punto abbiamo pensato che potesse arrivare si sono messi davanti tante formazioni a provare a chiudere nel finale siamo riusciti a tenere il gruppo compatto per fare per portare insomma il gruppo allo sprint ci siamo riusciti benissimo un ottimo lavoro di squadra lo dico sempre però questa volta abbiamo avuto qualche problema ma l'abbiamo risolto grazie al team mi hanno lanciato perfetto e dai un altro un'altra vittoria abbiamo portato a casa a borgomolini insomma un rettifilo d'arrivo lunghissimo facile percorrerlo più difficile decidere quando partire tu come hai scelto il momento giusto ma io comunico molto con la squadra ci siamo capiti già a quattro chilometri d'arrivo abbiamo già capito chi aveva forza e chi no abbiamo cercato di interpretare al miglior dei modi siamo arrivati giusti mi hanno lanciato giusto la velocità che che volevo è nulla siamo siamo veramente contenti sono di questa vittoria un'altra il 2022 si avvicina al termine per te la condizione ancora buona prossimi appuntamenti beh sì finiti i mondiali ho fatto un periodo di pausa ma sono tornato che insomma stavo stavo ancora bene prossimo appuntamento se prepareremo i campionati italiani a cronometro squadre cercando di fare insomma il meglio possibile il meglio risultato possibile siamo con paolo galeotti sindaco di marmirolo il trofeo prati stabile edizione 2022 si conferma una corsa di rilievo nazionale ma soprattutto una manifestazione importantissima per il territorio si sta crescendo perché abbiamo più iscritti l'anno scorso numero maggiore di squadre quindi un interesse crescente e fa molto piacere a noi come comune di marmirolo come comune organizzatore dei prati stabili una modalità per far conoscere il nostro territorio perché il percorso lo attraversa attraverso le strade principali ma anche strade più piccole che attraversano i prati i nostri canali e la giornata di oggi è perfetta per poterlo presentare al meglio una manifestazione che nasce dalla sinergia di più comuni facendo unione si fa la forza facendo unione si fa la forza pubblico e privato perché sono sei comuni marmirolo goito roverbella volta mantovana cavriana e porto mantovano e sei latterie del nostro territorio e latterie del grana padano per cui il consorzio grana padano insieme con le latterie pubblico privato fanno la forza del territorio elena betteghella al sessore allo sport di marmirolo il trofeo prati stabili anche quest'anno si conferma una fucina di talenti tanti giovani campioni che sono misurati su questa strada sì siamo contentissimi per questa seconda edizione quest'anno abbiamo avuto il patrocinio di regione lombardia proprio perché siamo stati premiati per il gioco di squadra tra sei amministrazioni diverse quest'anno siamo anche stati baciati dal sole nel vero sesso della parola e quindi tutto è andato bene sono contenta anche per la qualità delle squadre che hanno preso parte a questa manifestazione ricordando che bisogna investire sul ciclismo giovanile per creare i campioni di domani esattamente l'importanza dello sport giovanile che viene ribadito qui a marmirolo con la forza di sei comuni che fanno sinergia esattamente pensiamo infatti che bisogna tutti quanti avere un occhio di riguardo verso i giovani i giovani devono essere i primi ad essere considerati e proprio perché è lì il movimento è il futuro di domani quindi se vogliamo tenere alte le asticelle delle manifestazioni dobbiamo concentrarci soprattutto sui giovani siamo con carlo caleffi dello sci club marmirolo in regia organizzativa quest'oggi per un appuntamento a due ruote si è il secondo anno che facciamo questo trofeo dei prati stabili diciamo che le amministrazioni pubbliche dei sei comuni ci hanno coinvolto noi siamo uno sci club ma diciamo siamo abituati a fare delle manifestazioni sportive quindi ci siamo prestati volentieri a questa organizzazione devo dire che è con enorme soddisfazione che abbiamo visto la partecipazione di questi 164 atleti e sicuramente per noi appunto che amiamo lo sport qualunque esso sia è appunto una grossa soddisfazione promozione dello sport che va a braccetto con la promozione del territorio e dei prodotti tipici di questo territorio assolutamente noi con le latterie di questo territorio abbiamo promosso appunto i prati stabili li portiamo appunto nel ciclismo ma ce lo portiamo dietro anche nello sci noi quest'inverno abbiamo organizzato una gara fis internazionale e il nostro sponsor era sempre il Gana Padano